Adesso che rivedo questo mondo è come vederlo per la prima volta. Molti luoghi svaniti, in un presente che non è, in un passato che ritorna. Immagini che si ripeto, immagini che ricreo, a partire dall'idea che altri si sono fatti di me. Me la sono cercata, me la andavo cercata, nessuno è responsabile.